Ciao a tutti e benvenuti alla nuova pillola dei libri ragazzi una notizia straordinaria il disturbatore che veniva sempre ricordate quello che faceva incursione nelle pillole è stato arrestato e qui abbiamo l'immagine quindi possiamo andare avanti tranquillamente con la nostra pillola la macchina qua io sono il tipo dei pazzi da dove hai dalla porta ma come dalla porta ma come parla con la bocca con la bocca come parlo ma che vuole e che con te questo con te ciao 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 e ti volevo dire ti volevo dire che le pillole non le sai fare non le sa fare le pillole di taccoli povero me povero me sigla una sigla decente una volta almeno sveglia e caffè barba e bidet presto che perdo il tram e questa era decente ciao a tutti ragazzi benvenuti nella parte seria del video almeno quasi seria oggi presentiamo un libro di poesie che si intitola gli amori sbagliati di giovanna ferri e masciull edizione raccolta di poesie che mi è piaciuta tantissimo perché perché rispecchia la vita vera delle persone a volte le poesie tendono a enfatizzare emozioni invece quelle di giovanna sono emozioni vere emozioni vissute gli amori sbagliati chi di noi non ha mai vissuto una storia d'amore appunto sbagliata e dalle quali dalla quale però ha tratto insegnamento per andare avanti magari e modificare i punti di vista della vita e quindi perché non leggere questa raccolta cercarla subito e vivere le emozioni che giovanna ferri ha riportato su carta mi raccomando cercate giovanna ferri gli amori sbagliati masciulli edizioni potete trovarlo qui questo è il sito dove ordinare il libro ma potete trovarlo comunque online ragazzi mi raccomando voi se ridete sempre provate a divertirvi nella vita perché divertendovi scoprirete cose spettacolari di questa vita che va vissuta sempre con il sorriso ciao ragazzi seguite le pillole e condividete e alla prossima ciao